Qui in questa dimensione che da casa non si vede, però mi sembra molto più di condivisione, di pensieri che non di relazione, la semplice relazione con il professore e il pubblico, mi sembra che si sia in un bel mood di condivisione. Quindi ringrazio il professor Cohen che oggi dialogherà con Luca Toschi e Don Andrea Bigalli, do il benvenuto anche all'associazione Aleph e ad Elena e vi lascio a questo momento. Grazie mille di averci ospitato. Partirei con una cosa che non riguarda i relatori ma riguarda voi e per cui avete un post-it in mano. C'è una domanda qua che è aperta, che cosa fa chi educa? Katia, buonasera. Allora, che cosa fa chi educa? Ciascuno di voi è chiamato a rispondere come vuole, con un concetto, quindi non con un discorso troppo lungo, però con una parola, che può essere un verbo, che può essere una metafora, che può essere un'immagine, quello che volete. Basta che sia concisa e che rappresenti la sintesi di quello che per voi è la risposta a questa domanda. Quindi che cosa fa chi educa? Avete... un minuto di tempo per rispondere e quando avrete risposto, attaccate la vostra risposta qui. Avete due biglietti, giusto? Anche gli autori vogliono i biglietti. La penna c'è, scusate, pennarelli in quantità, qui. Fai un passaggio, grazie. E avete due biglietti, scrivete la stessa cosa su due biglietti, uno dei due ve lo tenete perché ci servirà alla fine, ok? Avete tutti i bigliettini? Anche quelli nelle retrovie laggiù, sì, che cercano di mettersi all'ultimo banco come al solito. Quando ci siete, poi potete attaccare. Sì. Sono due biglietti che hanno lo stessa scritta, in entrambi i biglietti la stessa scritta, sì. Leone dove sono i post-it? Allora consegna i post-it anche ai relatori, per favore. Se siete già pronti potete attaccare, eh? Sì, 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 sì. Certo. Uno lo attaccate e uno lo tenete, eh? Potete andare anche sulla figurina. Non ce ne offendiamo. Però uno se lo tieni tu. E' un po' perché sai, ecco. E' bellissima. Un po' perché sai, ecco. Ecco. E' un po' perché sai, ecco. E' un po' perché sai, ecco. Ah, è bello. Allora, ora che più o meno tutti dovreste aver messo il vostro bigliettino, diamo il benvenuto ai nostri, al nostro ospite che arriva da lontano, Walter Cohen. Ma sono tutti ancora troppo impegnati nella loro attività. Il secondo serve per ricordarsi. Sì, sì. Sì. Suona male, ragazzi. Cos'è? Il secondo serve dopo. Ah, aspetta, questo non ero preparato. Sì. Grazie. Una parola. Aspetta, un poema. Eh? Un poema, aspetta. Non si può fare una cosa diversa. E poi tutto qua. Ok, dicevamo. Allora, presentiamo i nostri ospiti. Sì, grazie di essere qui. Walter Cohen, che arriva, come dicevo, da lontano, che è professore ordinario all'Università dello Stato di Rio de Janeiro, che, leggo tutti i titoli perché sono tantissimi, quindi vado veloce, ricercatore nel Consiglio Nazionale dello Sviluppo di Scienze e Tecnologie. Non importa. Lasciamo perdere. Va bene. Allora, invece di Walter Cohen, autore del libro che andiamo a presentare oggi, bellissimo libro, ma autore anche di un testo che è per noi, che facciamo pratiche filosofiche, un testo fondamentale, veramente fondamentale, importantissimo, che quando qualcuno mi dice ma cosa fate, io dico tieni, leggi questo e avrai le tue risposte. Quindi autore appunto di due libri a questo punto perché di tanti, ma di due libri che porteremo nel cuore, insomma, due libri veramente importanti. Ah, scusate, avete ragione, non vi ho detto che il libro è Fare filosofia con i bambini, perché Walter Cohen, che è qui nella veste di esperto in quanto appunto colui che ha scritto la biografia filosofica di Freire, in realtà si è occupato e si occupa anche di filosofia per bambini, quindi di philosophy for children. E di conseguenza noi lo abbiamo conosciuto, principalmente noi che facciamo pratiche filosofiche, prima in questa veste e poi ovviamente in quella del biografo di Freire. Abbiamo con noi, vado nell'ordine così, Don Bigalli, che ho visto che salutava metà delle persone, quindi di casa direi un po' in tanti posti, parroco di Sant'Andrea in Percussina, teologo, collaboratore di testimonianze, referente per Libera qui a Firenze e collaboratore anche nel centro di ricerche in cui Luca Toschi, che vi presento, è il direttore, giusto, quindi direttore di Scienze et Usus, Atque Usus, sapere che c'è un legame. Luca Toschi, quindi direttore del centro di ricerche e già ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi sociologia, al dipartimento di sociologia. Autore, scusate, lo devo dire, di un libro scritto qualche anno fa, ma che riguardavo in questi giorni e che ha ancora la comunicazione generativa, che possiede effettivamente alcuni tratti di lungimiranza straordinaria, l'ho letto anche a distanza di tanti anni, quindi l'avevo letto quando era uscito. Vabbè, allora, velocemente, noi ci muoveremo, così come si è mosso Cohen nella sua biografia filosofica, percorrendo cinque concetti fondamentali. Il primo, non lo introduco, sul primo però interrogerò Cohen io, mentre, Walter, scusate, posso andare su di Walter, mentre sugli altri concetti passerò la parola agli altri relatori e saranno loro che, a partire dalla loro esperienza, dal loro contesto, dal loro mondo, illustreranno quel concetto e poi, su quello, porranno una domanda a Walter, a partire da quello che poi vorrei dirci. Il primo concetto è quello di infanzia. Ho chiesto ai due relatori di potermelo tenere stretto stretto io, un po' perché è il nostro concetto, noi lavoriamo con la filosofia per bambini, e poi perché mi piaceva poco tanto questa parola. Non dirò niente di quello che per noi è l'infanzia, tranne una cosa, che non è un'età della vita. Cioè, l'infanzia, per come la intendiamo nelle pratiche filosofiche, ma anche come concetto che aleggia in tutte le nostre esperienze, non è un'età della vita, ma è un modo di stare nelle cose. Cioè, l'infanzia è una dimensione nella quale, e grazie alla quale ci interroghiamo, sostiamo nel dubbio, non abbiamo certezze, siamo inquieti. Ecco, questa è la condizione di infanzia che naturaliter condividiamo con anche l'impostazione che ritroviamo nel libro. Ma vorrei chiedere a Walter qualcosa che non necessariamente noi avevamo preso in considerazione in modo così chiaro nel corso del nostro percorso. Ed è quindi la relazione tra infanzia... Grazie a tutti. Dicevo, la relazione che c'è tra infanzia e politica e, se possibile, mettendola anche in rapporto, se puoi, a quell'idea di bambino connettivo e congiuntivo che mi è sembrata davvero straordinaria nel testo, perché è un aspetto che è veramente molto interessante, ma sul quale io... Prima dicevamo, questo è un libro che fa molto riflettere, diciamo, con Luca Toschi, e non è sempre scontato che poi tutti i libri facciano riflettere, però in realtà questo è un concetto sul quale proprio sono rimasta molto folgorata, per cui ti passerei la parola. Grazie mille. Ma almeno abbiamo modo di andare sui vari concetti e ce li abbiamo e scriviamo... Sì? Sì, sì. Buonasera. Io stavo cercando di non parlare perché... per fare un po' di tempo, per trovare un tempo, trovare una... anche una maniera di essere qui, che non è facile. Siamo tutti qui, abbiamo fatto questo esercizio bello che ha cominciato con una domanda. Forse non rispondo alla domanda, ma è una maniera di risponderla, perché se la rispondo, io pensavo anche, voleva non rispondere alla domanda, perché questa è una cosa che Paolo Freire diceva, che è uno dei problemi principali della nostra educazione è che affermiamo una pedagogia della risposta e non una pedagogia della domanda. Dunque pensiamo che chi non sa domanda è che chi sa risponde. E pensiamo, per rapporto alla domanda di cosa fa, chi insegna, pensiamo che chi insegna, chi educa, chi educa, pensiamo che sono in un stato di infanzia, nella lingua, letterale, cercando le parole, non so parlare, sono imparando a parlare. Dunque pensiamo che chi educa sa, chi è educato non sa, dunque domanda, e chi sa, chi educa risponde. questa è l'educazione che Paolo Freire non le piaceva molto, chi chiamava di un'educazione bancaria, e pensava al contrario che il senso principale dell'educazione, dell'educatore è suscitare la curiosità, non castrarla, non toglierla, che può fare una risposta. Dunque io mi sentiva in questa scomodità, di che se io rispondo una domanda, può essere una risposta anche molto bella, però la forma di chiudere una curiosità può essere non così bella. Allora io pensavo, come fare, per questo domandavo un po' di tempo, come fare per rispondere senza rispondere, o non rispondendo, forse aggiungendo altre domande. Perché una cosa che mi ha cammato l'attenzione è che nel libro la infanzia è l'ultimo principio, invece Elena ha voluto cominciare per l'infanzia. E perché cominciamo per l'infanzia? Perché sempre l'infanzia per noi deve essere all'inizio. E qual è il rapporto tra l'educare e il cominciare? Perché possiamo pensare che anche le domande sono inizio per pensare. Iniziamo a pensare, cominciamo a pensare quando abbiamo una domanda. e anche abbiamo, anche forse, tanti volte, associamo i bambini alle domande. Dunque, cosa fare, cosa si può fare con una domanda più bella che risponderla? Forse aggiungere un'altra domanda o un'altra storia? Elena mi ha domandato per la relazione tra l'infanzia e la politica e ha parlato di questa cosa che Paolo Freire si pensava a si stesso come un bambino connettivo e congiuntivo. connettava, metteva insieme. E anche adesso mi ricordo di un'altra cosa, un'altra scusa per non rispondere alla domanda di Elena, che siamo molto vicini, siamo molto vicini qui di un posto, qui siamo a Toscana, vero? C'è un posto a Toscana che si chiama Ponsacco, è vicino, non è? C'è una biblioteca comunale a Ponsacco che quando Paolo Freire aveva 68 anni gli hanno dato un premio, una riconoscenza, un riconoscimento bellissimo, meraviglioso, con 68 anni il riconoscimento era di bambino permanente. Bellissimo, 68 anni, bambino. Questo in rapporto con quello che diceva Elena che la bambinezza o la infanzia non è un'età. Si può abitare la bambinezza a 68 anni. Ma anche questa parola permanente, è bellissima, bambino permanente, perché significa che che la infanzia è un tempo, non un'età. L'età è una maniera di numerare il tempo. La infanzia è un tempo senza età, è un tempo di presente, di presenza, di permanenza. Allora, posso aggiungere un'altra domanda alla domanda da Elena? Perché se abbiamo due domande abbiamo due infanzie, due inizio per pensare. Allora, qual è il rapporto tra infanzia e politica? E io mi chiedeva anche che se un educatore deve permanere bambino, la bambinezza o la infanzia è ciò che educiamo o ciò che ci educa a chi educhiamo? Io non aggiungerei, sono già stata bacchettata sul fatto che la mia domanda era già troppo circostanziata quindi io passo subito la parola. Allora, faccio due premesse velocissime perché a certi vizi uno non se le leva mai insomma, uno è quello di ringraziare perché mi sto rendendo conto che in Italia purtroppo di Paolo Freire si sa pochissimo. A me è capitato in questo centenario milaniano di interloquire con insomma gruppi ben forniti da un punto di vista propriamente culturale riguardo anche a tutta la dinamica di ricerca pedagogica e alla domanda chi conosce Paolo Freire le mani che si alzano sono ancora pochissime questo vuol dire che siamo di fronte forse a un'intermittenza perché io che cominciasse il grandicello in realtà Paolo Freire l'ho conosciuto di prima battuta. L'altra notazione che voglio fare perché poi certi collegamenti culturali restano Walter inizia il suo libro con una citazione da Bertolt Brecht ai posteri a coloro che verranno in cui ci sono due notazioni molto importanti e un rimando la notazione importante è che una delle caratteristiche dell'uguaglianza è sicuramente la gentilezza quindi il problema serio è provare a rimanere gentili quando sembra molto difficile poterlo essere per cui la conclusione della poesia che è meravigliosa ma voi quando verrà l'uomo in cui l'uomo all'altro uomo sarà un aiuto pensate a noi con indulgenza perché noi non siamo riusciti sempre a essere gentili e pensavo allora un'altra cosa sempre di Bertolt Brecht che mi frulla in testa negli ultimi tempi sono due versi di Bertolt Brecht quando si deve cantare nei tempi oscuri allora bisogna cantare dei tempi oscuri quindi adesso se manca l'uguaglianza che è sempre più limitata bisogna sicuramente ricominciare a lavorare su questo concetto fondamentale che arrivo subito a tema ha come presupposto intrinseco il concetto di diversità perché l'uguaglianza è tutto forché anche mera semplice mera e semplice giustizia la giustizia passa per un'idea della legge che tende a rendere gli esseri umani tutti uguali l'uguaglianza invece parte proprio dal presupposto che c'è una differenza radicale tra gli esseri umani che bisogna lavorare sulla dignità per tutelare però a tutti i costi questa diversità e questo attraverso un concetto fondamentale che è quello di reciprocità queste sono le cose che noi abbiamo così provato a capire a tempo debito dall'esperienza straordinaria di Paolo Freire che fra l'altro chiude un quartetto incredibile perché Paolo Freire 1921 Ernesto Balducci 1922 Lorenzo Milani 1923 Franco Basaglia 1924 allora prepariamoci perché appunto quanto alla gentilezza anche nei dibattiti mi immagino che anche questo centenario basagliano non sarà del tutto tranquillo perché attingere delle idee fondamentali che furono contestate a tempo debito anche se riuscirono a imporsi ma guardate riflettere sulla uguaglianza nei confronti della persona malata per poi arrivare a capire un elemento fondamentale che siamo tutti più o meno malati la grande frase di Basaglia che abbiamo un po' cambiato la vita visto da vicino nessuno è normale per cui si fanno saltare certe categorie e ci si mette appunto alla ricerca di quella reciprocità che ribadisco tesse il concetto dell'uguaglianza siccome chi mi conosce sa che io ho la tendenza a zannare la polpa a volte e soprattutto voglio risparmiare lo psicanalista facendo catarsi pubblica di certe problematiche ricordiamoci siamo in una fase storia in cui un noto intellettuale italiano che non voglio nominare Galli della Loggia scrive un pezzo su quello che rimane a suo modo il quotidiano più autorevole in questo paese cioè il Corriere della Sera scagliandosi contro il concetto di inclusione dimostrando quindi che questa capacità di leggere le persone secondo la prospettiva della diversità ancora qualcuno non riesce sicuramente alla cultura imperante che è quella liberal borghese che Galli della Loggia incarna propriamente molto interessante perché insomma io mi sono trovato a ragionare con la mia comunità di questo intervento del professor della Loggia che appunto scaglia contro il mito dell'inclusione dicendo che insomma in qualche modo bisogna differenziare i cammini formativi sottraendo a una classe l'enorme potenzialità di confrontarsi con un soggetto che presenta delle diversità e che quindi è un grande stimolo a crescere secondo questa dimensione dell'uguaglianza indicando anche la possibilità di apprendere delle cose che altrimenti sui libri non si trovano tipo la cultura dell'attenzione della tenerezza e appunto della gentilezza eh qui guardate sicuramente basterebbe l'inventiva di Don Milano e lettere una professoressa contro che classisti che siete voi qualcuno è rimasto irridiciumemente classista non c'è verso non ce la fa guardate non ce la fa proprio e allora bisogna entrare invece in questa dinamica di far capire quant'è importante lavorare su altri tempi e mettersi secondo altre prospettive appunto questo prospettiva meravigliosa della reciprocità di cui parlano insistenza Paolo Freire si educa educando se si pretende di insegnare senza imparare la propria volta vuol dire si è totalmente statici da tanti punti di vista non soltanto come insegnanti ma mi permetto di dire come essere umani quindi noi abbiamo una prospettiva e vi chiamandomi appunto a quello dicevo prima ricordiamoci e secondo me la gentilezza è ancora una prospettiva capace di suscitare allegria e allora noi siamo in tempi appunto oscuri però in questi tempi oscuri ricordiamoci di continuare a cantare con gentilezza e quindi anche con un po' di prospettiva gioiosa di certo alcuni poteri non li sconfiggeremo mai se non cambiando totalmente la logica del conflitto non entrare su certe logiche loro del conflitto e continuare a rispondere sorridendo dove invece vorrebbero da noi qualcosa di diverso io ho letto il libro e se siete d'accordo e lo chiedo a Walter prima di tutto penso che ognuno di noi che legge un libro lo riscrive no? perché va a cercare le cose che lo interessano e credo che questo sia un libro veramente della buona filosofia perché come lo leggi lo riscrivi dici ah ma io cioè tendi a trovare in questo libro quella che è una vita completamente diversa la mia dalla tua però come uomini planetari si vede che ormai abbiamo tanta quindi se siete d'accordo io così in maniera molto scolastica più che delle domande da porti sono le domande che mi ha posto il libro e le scorrerei con voi ecco quindi mi metto come lettore e basta non ho altre competenze perché non sono le due aree che mi erano state le due aree che mi erano state affidate sono la vita e l'amore si comincia bene no? naturalmente cercherò di comunicarvi come cos'è che mi ha colpito nel libro di Walter attraverso delle citazioni delle sue parole no? magari è una scelta e quindi nella scelta c'è già un commento il primo punto è l'educazione filosofica perché sai la filosofia dice è un filosofo pensate al linguaggio comune vive nel mondo della strattezza il tento filosofo perché inciampi no? c'è tutta un'aneddotica il filosofo è l'astratto è colui che contempla le stelle e inciampa nel percorso quotidiano della vita di tutti gli altri no? in questa maniera il filosofo è già morto può dire le cose più intelligenti di questo mondo ma non parla a noi parla a quei pochi filosofi e qui nel libro pagina 102 lo dico perché magari uno può avere interesse poi andare a ricercarle e c'è una c'è un passaggio di Walter che mi sembra importante se un'educazione filosofica permettesse agli oppressi perché gli oppressi è il protagonista di questo libro poi l'accezione di oppressi è molto interessante ma che gli oppressi non sono solo gli oppressori sono anche coloro che hanno il ruolo egemonico di opprimere gli altri perché sono poveretti in realtà ci spiega Walter facendo riferimento a Freire quindi se un'educazione filosofica permettesse agli oppressi solo una presa di coscienza teorica di che cosa? della loro condizione ma non cambiasse le loro circostanze materiali di vita quindi se la filosofia ti spiega un problema ma non ti aiuta a cambiare nella tua vita quotidiana qualcosa Walter ci dice essa non sarebbe un'educazione di liberazione in senso proprio è un bel concetto perché scombina le carte in particolare scombina il rapporto fra teoria e pratica fra elaborazione teorica e applicazione della teoria nella nostra vita di tutti i giorni e questo mi è parso un filo rosso che ovviamente Freire ha scritto delle pagine stupende ma è il filo rosso di questo libro un'altra collegatissima a questo filone un'altra osservazione è a pagina 105 io sto prendendo le frasi più significative ma è tutto il libro su questo si parla di Foucault appunto che è un filosofo citatissimo e poco letto è il destino di tanti grandi personaggi scusate ma e pone un problema che Walter riassume in questa maniera c'è una polemica da parte di Freire che Walter interpreta secondo me in maniera molto creativa e interessante che è la critica alla tradizione intellettualistico speculativa delle dottrine delle dottrine che riguardano i problemi astratti e i concetti ecco e qui Walter pone un problema il filosofo è solo il suo pensiero ci si ricollega a quello che si è detto prima o è anche il suo modo di vivere qui grande riferimento ovviamente a Socrate voi sapete per Don Milani ma anche per Foucault Socrate è un riferimento esplicito e implicito cioè c'è un testo che è la vita dei filosofi un po' direbbe il senso comune un conto è predicare e un conto è predicare e un conto è praticare la vita il filosofo cerca la sintesi quindi la sua filosofia è anche la sua storia di Walter credo di Freire senz'altro e questo è un punto che ci fa un po' riflettere non sulla nostra vita che non è quella di Freire la nostra piccola vita la lotta quotidiana che ricordava prima Andrea non fa ciò che vorremmo essere che pensiamo sia giusto cercare di essere quello che ci riesce di essere poi c'è un altro punto che vorrei subito è a pagina 122 e che devo dire qui Walter ha riassunto un concetto è di una non attualità è il futuro cioè è parlare del presente con la speranza che c'è un futuro questo è il modo stupendo di e le parole che si leggono nella scuola sono parole che non dicono il mondo esse sono separate dal mondo vissuto e da chi vive nella scuola come duplice conseguenza a questo impariamo a leggere un mondo scolastico che non è quello che viviamo fuori dalla scuola e non apprendiamo a leggere quel mondo che viviamo al di fuori della scuola bella questo discorso è bello semplicemente perché pone il problema la cultura che si insegna a scuola che cultura è è una cultura egemonica non solo egemonica è la cultura dei vincitori nelle materie scientifiche come nelle materie umanistiche è una cultura che non tiene conto della nostra quotidianità un bambino una bambina un ragazzo una ragazza che va a scuola entra in un mondo che non c'è perché appartiene alla classe in alto che ci vogliono educare a pensare come pensano loro perché si possa agire come loro vogliono che si debba agire e questo libro ripropone Freire ma tutta la cultura che Freire esprime in una maniera davvero lo dico senza fare complimenti Walter non lo conoscevo lo conoscevo stasera è un libro che ci appartiene perché qui dentro ci si ritrova tutti noi ci si ritrova i nostri disagi a scuola per essere bravi dovevamo essere quello che non eravamo e quando cercavamo di fare quelle domande il professore diceva ma non sei stato attento la professoressa diceva ma non sono stato chiara io era quasi un'offesa la domanda la cultura della domanda è la cultura di una cittadinanza che non delega i politici è una cultura della cittadinanza che elegge dei rappresentanti ma che vuole giorno dopo giorno verificare dare il loro contributo dire attenzione la vita quotidiana è questa prendete l'autobus andate al bar di provincia dove c'erano tre ragazzini e non avevano un posto dove andare mi ci sono fermato ora perché dovevo prendere un cappuccino avevo fame e insomma ho ancora due minuti non voglio prendere troppo tempo ma io mi metto alla parte dei lettori insomma e poi c'è l'amore wow è l'amore oh Walter l'amore l'è complicato perché se ne parla Andrea è un conto qui si vola bassi e allora senza falsi pudori c'è un punto che vorrei dirvi mi ha colpito più di tutto tanto c'è mia moglie che è presente lei davvero è un'esperta di frere della scuola io insomma mi sono un po' improvvisato scusatemi è a pagina 153 a pagina 153 c'è una nota che nella mia ignoranza confesso essere scusate una nota davvero interessante io d'altra parte non sono un pedagogista non sono uno psicologo non so cosa sono sono un esperto di comunicazione ma chi è la comunicazione tutti ne parlano nessuno la conosce quindi io sono la persona più ignorante di questo mondo ma ho imparato da fede e poi Walter me l'ha ridetto Andrea me lo dice tutti i giorni sia orgoglioso della tua ignoranza cercando però di correggerla allora c'è una nota a pagina 152 153 che tira fuori l'eros e questo è bellissimo io come centro di ricerca e qui vedo delle giovani colleghe che sono venute studiamo da anni l'eros nella sua versione più complicata la pornografia abbiamo avuto dei progetti con la polizia di stato con la polizia postale sappiamo benissimo che la pornografia è uno degli strumenti di educazione sessuale più potente però si fa finta che non ci sia e questa versione dell'eros è intrigante una società erotica come questa che non genera né figli né figli e qui c'è una nota che vi riassumo perché non voglio davvero essere troppo la somiglianza fra Paolo Freire e il movimento zapatista e qui la mia frequentazione di Balducci Boff eccetera mi ha fatto sussultare no? e qui dice la lotta per l'autonomia che c'entra l'eros la lotta per l'autonomia è essenziale alla costruzione individuale collettiva dell'essere umano è un pezzo presso da Escobar che appunto ha affrontato il problema della pedagogia erotica e continua la proposta della pedagogia erotica pertanto è una proposta di trarre l'eros dalla vita come invito a lottare contro il suo avversario il Thanatos la morte che nel modello della globalizzazione capitalista della guerra ha aperto la strada alle parti più primitive dell'essere umano che sono quelle che stanno vincendo le guerre ufficialmente dichiarate e la guerra di ognuno di noi tutti i giorni tutti i giorni cercare di essere quello che il sistema ci dice non è tua convenienza essere non va bene devi essere in un'altra maniera ma te dentro pensi che la giustizia ti dice io vorrei essere in un altro modo vorrei divergere essere diverso non è tuo interesse essere diverso bene l'eros contro Thanatos contro la morte che nel modello della globalizzazione capitalista della guerra leggevamo ha aperto la strada alle parti più primitive dell'essere umano insieme al suo potere politico di distruzione noi abbiamo una comunicazione qui proprio chiudo scusate se sono stato troppo lungo che tutti dicono è la società della comunicazione il problema è sempre la comunicazione si investe un sacco di soldi nella comunicazione chiunque investe un sacco di soldi se c'è un problema è il problema è della comunicazione leggendo questo libro e riemergendo tanti ricordi degli scritti di Freire è la riflessione su cosa sia questa comunicazione in cui non siamo bravi di cui dobbiamo capire meglio dovremmo andare tutti a scuola di comunicazione le aziende le imprese le organizzazioni un ospedale non funziona è un problema di comunicazione un prodotto non va bene è un problema di comunicazione l'economia va male è un problema di comunicazione ma che tipo di comunicazione è questa? è Thanatos Morstua Vitamea ognuno solo contro tutti gli altri e tutto ciò che può immaginare o prefigurare un interesse comune e qui davvero sicuramente Cohen lo spiega benissimo tutto ciò che prefigura un progetto comune va contro il nostro modello di comunicazione perché è una comunicazione dove non solo c'è una classe egemonica che comunica rafforzando la sua egemonia economica politica sociale e culturale è sull'immateriale che lassù hanno il potere perché noi introiettiamo un modello comunicativo comincia nella scuola che è un modello di comunicazione sociale nessuna domanda io so tu non sai tu stai zitto e io parlo ma no e allora le generazioni il ruolo sociale delle generazioni nuove quelle che non sanno il valore di coloro che non sanno sta proprio nel fare le domande che noi sappiamo già le risposte ma noi abbiamo bisogno di domande dove non ci sono le risposte ma questo è soltanto la mia lettura e comunque grazie tanti no mi piacereva fare un riprendere la prima attività che voi avete anche la francia vuoi parlare no 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 perché adesso perché io pensavo cosa fa chi educa voi avete tutti abbiamo fatto questa cosa dall'inizio abbiamo cominciato con una domanda e tutti voi hanno metto una parola e possiamo pensare che il libro è una maniera di il libro dice chi educa fa cinque cose diciamo cinque parole chi educa nel senso freiriano chi possiamo dire anche per freire avereva una risposta principale io pensavo in quanto Elena faceva la domanda come rispondereva freire questa domanda che cosa fa chi educa mi sembra che avrebbe una risposta prima una parola prima che freire direva chi educa fa politica l'educatore è un politico ma possiamo anche fare una domanda di questa risposta ma cosa significa fare politica o che politica fa chi educa e mi sembra che qui è dove possiamo mettere queste parole che è una politica della vita è una politica dell'igualanza è una politica dell'amore è una politica dell'infanzia anche una politica dell'erranza io sentendo a Luca e a Andrea mettereva anche una parola di loro io io penso che Andrea direva è una politica della gentilezza e Luca direva è una politica che comunica è una politica allora vuoi parlare un po' della ranzia così si chiude il cerchio no allora appunto non posso neanche fare delle grosse analisi sui meccanismi inconsci perché avendo scelto per primo rispetto a Luca le parole da trattare stasera sono andato su due grandi parole della mia vita perché guaglianza giustizia da un lato ma anche ranza e riprendendo in mano la straordinaria biografia di Paolo Freire bisogna ricordare che qualcuno veramente diventa un errante a tanto titolo anche fisico sto pensando all'esilio sto pensando al tempo appunto della preclusione del ritorno alla propria radice perché c'è un regime militare che lo impedisce sto pensando davvero anche a quelle circostanze perché noi siamo in una fase storica in cui le merci viaggiano facilmente gli esseri umani no con tutte le conseguenze del caso quindi sono erranze forzate ma per certi aspetti anche forzate erranze impedite e devo dirvi che sicuramente questo concetto di erranza presuppone che uno prova a fare tutta una serie di movimenti dal centro delle proprie sicurezze verso il margine delle proprie conoscenze perché poi laddove ci si spinge sul confine di se stesso si incontra appunto gli altri si incontra la diversità degli altri e si entra in questa dimensione di comunicazione certo c'è bisogno di un elemento fondamentale e il secondo elemento di cui parla Paolo Freire nella pedagogia degli oppressi reciprocità ma anche spirito ritico che poi è la grande lezione milaniana non dirà di tutto no e guardate ridiciamo una volta di più nella pedagogia degli oppressi questo riferimento a Barbiana c'è è preciso e puntuale e fra l'altro ci dice che appunto errare culturalmente significa poi realizzare dei grandi incontri quali appunto possiamo definire un uomo che si è occupato di fatto di non più di 60 ragazzi a Barbiana e ragazze a Barbiana e un uomo invece che ha messo in piedi i percorsi di alfabetizzazione adesso diremmo globali che hanno riguardato centinaia di migliaia di esseri umani secondo un processo storico che credo sia totalmente straordinario quindi questa cosa di Paolo Freire va ribadita con chiarezza siamo in una fase storica in cui forse davvero era possibile non soltanto sognare ma anche realizzare i sogni che si stanno facendo su questo poi chiuderò il mio intervento per ricordare poi che c'è un elemento fondamentale Walter lo ricorda bene che l'erranza che si propone Paolo Freire è l'erranza appunto con cui si esce anche dalle proprie sicurezze economiche sociali e culturali per entrare in rapporto appunto con la grande realtà dei poveri una parola che resta rinchiusa in una serie di concetti ma che poi va capita secondo me soprattutto attraverso il concetto di sofferenza perché la povertà di cui occorre occuparsi è la povertà veramente che genera disagio genera sofferenza guardate è a stare attenti alla retorica dei poveri felici perché solitamente appunto è una retorica apposta secondo una certa dimensione e la povertà evangelica non è la povertà di cui ci stiamo stiamo trattando stasera che è una scelta che è una determinazione che è una volontà anche di capire i laureotenti delle cose forse nei linguaggi sarebbe bene ad operare il termine miseria e dire proprio che lì siamo appunto di fronte a una realtà verso cui guardate bisogna andare per prendere coscienza c'è un termine molto bello della teologia che si può laicizzare nel modo più pieno che è incarnazione cioè arrivare in contatto con quella che Merleau-Ponty chiamava la carne del mondo cioè la tessitura esistenziale delle persone le vicende le storie e entrare appunto in questa dinamica di storie che sono di sofferenza di fatica di difficoltà perché in quelle realtà lì appunto c'è da imparare la grande erranza felice felicissima erranza confessionale di Paolo Freire che non aveva una confessione religiosa anche se aveva delle radici cristiane che poi in una forma forse guardate estremamente compiuta riuscì a meticciare con la tradizione social comunista in particolare Gramsci e qui guardate proviamo anche a sfatare questo grande mito che c'è sulla teologia della liberazione faccio così perché io ci tenevo se si scrivesse teologia perché sono un teologo perché quello che ho sempre fatto nella mia vita è non soltanto studiarla ma anche praticarla guardate il marxismo c'entra fino a un certo punto è uno degli innumerevoli strumenti che si possono adoperare per pensare in maniera critica e creativa e quindi bisogna sempre comunque porsi questa dimensione dell'oltre per me personalmente essere stato uno che si è ispirato del marxismo è stato veramente una continua provocazione a me stesso quello diceva Pasolini il moralista accusa l'altro e tutela se stesso l'uomo la persona morale accusa se stesso prima ancora di contestare gli altri chiudo su un passaggio perché se no poi qui di via io sa che sono pericoloso si citava questo rapporto con lo zapatismo che al di là di certi uomini politici di quel tempo lì che liquidarono sto parlando a sinistra italiana che liquidarono il fenomeno con molta sufficienza mi ricordo sempre un signore che non voglio nominare Piero Fassino che definiva appunto il succubandante Marcos uno zorro cioè era un posto di parolacce che non aveva veramente capito nulla di quello di quanto di straordinario stava avvenendo là comunque mi fa piacere si ritorni a queste radici antiche anche della felice sovversione attraverso i principi comunitari e dell'ascolto dei popoli indigeni e poi lo zapatismo è stato visto fondamentalmente perché il grande motto dello zapatismo è siamo un esercito di sognatori per questo non ci possono sconfiggere signore signori è ancora radicalmente vero più che vado avanti nei tempi oscuri appunto e più che mi rendo conto che il sogno è quello che ci tutela a tanto titolo e ci fa capire cosa significa veramente vincere grazie grazie e riprendiamo le parole quindi ritorniamo al lavoro iniziale da cui eravamo partiti vuoi che te le legga Walter vuoi vuoi che se ne legano alcune le dai un'occhiata tu veloce possiamo ok quindi però dovrebbero spiegare ci chiedeva Walter allora le parole che avevate scelto come parole che rispondevano alla domanda trovano nelle domande che sono state poste un'affinità diciamo non so se sono chiara ma noi noi abbiamo posto questa domanda iniziale chi fa chi educa e abbiamo parlato in certo modo di questa stessa domanda abbiamo parlato di parole che hanno rapporto con cosa fa chi educa allora come voi trovate le vostre parole la vostra maniera di rispondere per rapporto a queste parole hanno fatto alcun hanno hanno trovato alcun rapporto hanno trovato che sono parole hanno trovato una parola che è vicina o hanno trovato una parola che è opposta voi parlate di come la vostra parola si rapporta con questa parola è un po' per fare anche io sempre ho questa esigenza che Luca aveva detto della vita mi piacereva che questa la forma di ciò che facciamo qui sia anche simile un po' a quello che stiamo dicendo se affermiamo una pedagogia del dialogo sarebbe buono che dialoghiamo più se parliamo noi tutto il tempo possiamo dire cosa è bella ma la forma sarà un po' contraddittoria dunque che vivenziamo una cosa che sia simile e possiamo continuare questi pensieri insieme di parole intorno a questa domanda chi vuole dire qualcosa sulla parola che ha trovato e la parola che ha sentito e che rapporto trovo che certo allora io mi chiamo Letizia buonasera hai detto una parola per me anche ora l'ultima importante dialogo io faccio parte di una corrente di pensiero e di azione internazionale nella quale stiamo provando a fondare una corrente pedagogica e ci interessiamo delle figure che alcune non conosciamo conosciamo solo di nome come dicevi e quindi Freire mi sembra dal poco che conosco una persona molto interessante appunto perché in questa ricerca di una pedagogia del dialogo io la parola che ho scritto è che fa chi educa umanizza perché mi ritrovo un aspetto dell'umano la vita innanzitutto l'amore per la vita l'amore per gli altri anche l'infanzia come ripartenza sempre dell'umanità i bambini ci riportano le speranze del meglio che c'è anche negli esseri umani poi via via magari ci educano male o diventiamo scegliamo di essere una versione peggiore dell'essere umano che potevamo essere quindi questo anche questa modalità provare anche a tradurre le proprie idee in quello che si quello che come si svolgono le cose mi sembra molto interessante perché richiama a una coerenza a una ricerca di coerenza non mi sono trovata però ad esempio sulla questione della politica e lo dico perché 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 tu dici no dici per me politica è morte distruzione corruzione disumanizzazione distruzione dell'ambiente magari io lo chiamo lo chiamo magari con un altro nome no a quello che te dicevi come come politica potrebbe essere utopia sogno progetto da ricercare no perché effettivamente cioè siamo stiamo vivendo questi tempi bui buissimi però concordo che ci sono se se lo scegliamo motivi di speranza che possiamo trovare perché le cose non sono determinate no a partire appunto io faccio sono insegnante di sostegno in una scuola superiore e anche lì cioè te vedi anche la la propria sperimentazione cambia come tu sei con i ragazzi con gli altri insegnanti con il personale con le persone che lavorano a scuola con i genitori cioè ognuno di noi può essere una persona differente anche Andrea diceva questo potere della gentilezza io lo ritrovo lo ritrovo tantissimo è un potere molto nelle nostre mani perché magari fermare la guerra ringrazia ci viene un po' più difficile però essere gentili nell'ogni giorno diffondere i valori dell'accoglienza della solidarietà anche l'aspetto dell'inclusione no che allora facciamo come diceva questo politico facciamo una classe per i disabili un'altra classe per gli immigrati un'altra classe per le donne un'altra per gli uomini e un'altra e alla fine rimaniamo da soli nelle classi perché effettivamente siamo tutti diversi no quindi chiudo chiudo su questo aspetto chi educa non solo con la con l'azione individuale e quotidiana no nell'ogni giorno ma anche ad esempio quello che io insieme ad altre persone ma da quello che vedo anche voi con questo centro studi o tante altre realtà cerchiamo in modi diversi di costruire delle alternative la nostra è molto quella della corrente umanista socialista di questa corrente pedagogica scuola emancipata parla anche di liberazione in un altro modo è quella di una fondazione culturale perché sulla cultura appunto dove è una battaglia anche una ricerca a lungo termine perché quella della cultura non si fonda di un giorno per l'altro però credo che lì ci sia una questa via di speranza si trova lì grazie allora allora sì possiamo fare una circola sembra sembra che devono dovete venire qui per parlare è un po' in positivo però è la diretta della casa chi puoi venire qui buonasera ma lei vuoi venire puoi venire qui anche giusto per così ma no anche no vi saluto e vi ringrazio di essere qui ringrazio l'ALEF ringrazio il Dipartimento di Filosofia ringrazio Walter Cohen ringrazio Luca Toschi per la presenza ho citato no Don Andrea Bigalli giustamente scusate Don Andrea Bigalli ringrazio i partecipanti penso sia una cosa bella penso sia di vostro gradimento spero di non aver interrotto niente soprattutto assolutamente sì se venite a fare i vostri interventi volentieri vi invitiamo solo alla brevità se possibile allora in quanto venite voi venite quando vuoi ma parliamo un po' di questo che ha detto Letizia che Letizia ha detto di questa cosa forte che lei associa la politica alla morte alla destruzione e che invece lei pensa l'educazione più vicina dal sogno dell'utopia questo è interessante perché per Freire anche l'utopia il sogno la speranza sono parole forti ma ma giustamente è questo è questo che fa la politica allora come come il mondo che stiamo abitando come il mondo a tal punto che fa associare la politica alla morte e alla destruzione è importante questa cosa molto importante perché quando Letizia hai detto anche che questa pedagogia della della tu hai detto dell'emancipazione della liberazione i sapatista direvano ci sono due politiche c'è la politica che è dominante ma c'è la vera politica la politica di supra quello che sono sotto o il mandare o vedecendo Freire diria c'è la politica del dialogo dell'ascolto dell'improvviso imparare insieme dunque questa è anche una domanda come si apprende la politica come si come si apprende una idea della politica o come si si può coltivare una idea della politica in educazione questa è una cosa importante mi sembra e Freire anche in questo modo la coerenza è qualcosa importante perché noi siamo insegnanti diciamo noi possiamo dire domandare è importante possiamo dire questo 50 volte ogni giorno domandare è importante domandare è importante ma se quando un studente ci fa una domanda noi diciamo adesso non è tempo o aspetta che finisco o non interrompa cosa apprende l'estudante apprende ciò che diciamo sulla domanda o ciò che affirmiamo quando lui domanda è lo stesso con la politica perché la politica è un rapporto che si impara noi possiamo parlare di democrazia per esempio possiamo dire che è importante la democrazia ma se quando un studente ha un problema non lo ascoltiamo o facciamo di conto che non esiste qual è la politica che si apprende la del discorso o la che si vive la della vita dunque è una sfida mi sembra importantissima per ogni pedagogia non solo declamare l'idea importante l'idea della rivoluzione della giustizia dell'emancipazione dell'amore no ma come vivere questa questa vera politica diciamo come se pensiamo che è importante ascoltare come di fatto ascoltare i nostri studenti come come aiutare i nostri studenti a imparare il valore dell'ascolto non come un concetto come una teoria o con una pedagogia ma con una pratica con una vivenza e anche con tutti le idee che sono importanti allora è una sfida grande come come educare in una in un'altra politica ma non perché la per la declamamo perché la trasmittiamo ma perché la viviamo siamo come insegnanti disposti a vivere ciò che pensiamo che deve essere un altro mondo un'altra educazione felici di averle dato il tempo di avere il coraggio di venire qui infatti poco coraggio comunque io sono un ex insegnante quindi sono io insegnante se vuoi essere un ex no però insegnavo insegnavo disegno alle superiori e ora da diversi anni non insegno più però piano piano mi sono convinta che ho commesso degli errori quando insegnavo cioè la parola che ho scritto lì è questa non lasciare indietro nessuno perché quando uno insegna è portato a comunicare molto di più con chi è bravo con chi sa con chi lo vedi più interessato e magari le persone meno interessate ti danno come un po' di fastidio no perché sono meno interessate sembra che non gli importi niente però ho capito che sono quelle che hanno più bisogno dell'insegnante cioè perché appunto non bisogna lasciare indietro nessuno quindi cercare un modo con la fantasia con la anche una parola che avete detto con una comunicazione giusta di suscitare la curiosità in queste persone per portarle attraverso questi metodi a diventare più sicuri di se stessi ho finito bellissimo bellissimo non lasciare indietro nessuno bellissimo perché bellissimo perché questa cosa di non lasciare indietro è bellissima e è molto concreta perché noi pensiamo come educatore che debiamo arrivare a un punto ci fanno credere che l'importante è dove arriviamo e forse l'importante non è dove arriviamo ma come andiamo come camminiamo e se andiamo alla velocità del più veloce senza sentire come andano tutti non è così importante dove arriviamo ma come facciamo ciò che facciamo anche perché quello tu hai detto quello che andano non così veloce dunque che sono indietro dunque tu hai parlato di qualcosa che è una velocità e che è una cosa fondamentale in educazione che è il tempo come si vive il tempo e forse questa è una cosa che io penso che forse freire anche che educare ha rapporto fondamentale con il tempo cosa facciamo con il tempo che è una cosa di una maniera impossibile questo è un seminario di un francese derrida bellissimo che si chiama donare il tempo e lui dice donare il tempo è impossibile è dubbiamente impossibile perché donare già è impossibile donare senza aspettare niente e se c'è una cosa che è impossibile donare è il tempo perché il tempo non è di nessuno però ancora è impossibile e questo Letizia ha rapporto con il sogno e con l'autopia forse l'educazione anche ha rapporto con lo impossibile più di che con lo possibile la vera educazione diciamo è una educazione impossibile necessariamente impossibile anche quando vedi disinteresse secondo me la parola è anche più meglio un disinteresse perché la persona è diversa dalle casi problemi quindi non sei portato al colloquio come con gli altri che non hanno un interesse quindi anche cercare di interessare per portare tutti per non lasciare indietro nessuno vero interessare è anche una palavra interessante interessare entro l'essere l'essere dunque portare entro umanizzare direva Letizia portare tra l'essere tra l'essere ma tu sei qui no io sono contenta di ascoltare no in realtà io mamma mia parlo da un punto di vista diverso perché penso non so ma sicuramente ecco io sono una studentessa in liceo ancora sto facendo l'ultimo anno e tra l'altro le scienze umane e quindi studio anche questi autori tra cui freine pedagogi eccetera e mi domando sono molto attratta dal tema dell'educazione anche se sono molto lontana nel senso che non lo farei mai lo trovo molto noioso sinceramente visto dall'esterno però sono molto curiosa perché effettivamente la mia formazione è dovuta dall'educazione credo che la mia persona sia tanto di ciò che mi hanno educato e questo tra l'altro l'altro giorno per la scelta dell'università mi hanno detto ti devi ripensare la scelta dell'università dovrebbe essere dovuta anche da ciò che ti hanno educato in questi anni la scuola ciò che ti ha in qualche modo fatto apprendere e mi sono scrivevo vi sentivo parlare veramente molto interessante però mi rendevo conto che tutto ciò di cui avete parlato ora è estraneo dalla scuola di adesso anche le cinque parole che avete scritto di amore oppure prima si parlava di eros di pornografia totalmente un tabù all'interno della scuola l'erranza l'errore non è contemplato non c'è l'errore se sbagli rimani indietro come diceva la signora l'infanzia non siamo bambini siamo adulti ce lo ripetono soprattutto quando sei al liceo come nel caso mio sei un adulto ora vai all'università devi tirarti sulle maniche oppure l'uguaglianza sì sì siamo uguali però come diceva appunto c'è molto chiaro l'identificare chi può fare chi non può fare chi può andare avanti chi rimane indietro chi ha un problema che può essere una disgrafia una dislessia e questo è aperto a tutti e la vita ecco non si parla di vita cioè si parla di momento presente allora io dico interessantissimo però vorrei capire come si congiunge tutto questo all'educazione di adesso perché io anche studiando questi pedagogisti nel tempo sono sicuramente l'educazione è cambiata ma visto che è cambiata come è cambiato il mondo e tutto ciò che negli anni come come riusciamo a riformulare questo pensiero in un'educazione attuale questa è la mia domanda poi ripeto io me ne disinteresso perché però sarei curiosa avrei voluto avere un'educazione che magari interessasse anche questi temi qua Ada bravissima Ada che ha che ha descritto come come facciamo per per fare ciò che non facciamo come perché la scuola cosa è una scuola e questo è bello anche l'etimologia della parola scuola è bellissima voi la sapete probabilmente scuola è una parola dal greco scuole sapete cosa significa scuole tempo tempo perso tempo libero dunque Ada le scuole hanno stato creata non per imparare non per insegnare non ha bisogno di una scuola ma hanno stato creata per perdere il tempo perché perché fuori della scuola tu deve quando tu lavora tu deve giustificare cosa che tu produce nel tempo per ricevere il tuo salario il tuo pagamento nel tempo del lavoro tu deve produire nel tempo sociale in una società tu non si può perdere tempo invece la scuola è stato creata perché le persone possano perdere il tempo in delle cose che non servano per niente come domandare pensare leggere scrivere dunque la scuola almeno nella sua etimologia è una maniera di vivere il tempo un tempo non per lo che il tempo produce ma per l'effetto che ha in ci che condividiamo questo tempo dunque tu puoi pensare che queste parole anche che abbiamo parlato qui tutte quelle sono parole improduttive improduttive in una economia capitalista in un'economia sociale come la che abbiamo la parola amore la parola gentilezza la parola errancia noi abbiamo fatto un elogio dell'errancia la professora ha detto che ha errato per Freire sarebbe un elogio felicemente ha errato perché l'errore è una fonte di ispirazione per apprendere so se apprende quando si erra ma anche è una fonte di un viaggio pedagogico che non sa la destinazione l'errante a volte si dice l'errante non sa dove va ma il vero errante sa che per viaggiare veramente precisa non anticipare la destinazione del viaggio che so viaggiano quello che non sanno dove il viaggio te porta dunque ti immagina una scuola così una scuola dove gli insegnanti e gli studanti si trovano per errare insieme per vivere amorosamente la vita per essere gentile per vivere infantilmente la vita infantilmente nel senso dell'iniziale vivere come vive un bambino come se ogni giorno fosse il primo giorno come se cominciamo a vivere ogni giorno tu ti immagina come potrebbe essere una scuola ma forse tu Ada adesso dice ma questa scuola è impossibile è molto distante della scuola reale come si fa per uscire della scuola reale reale e partire e trovare una scuola come quella felicemente noi abbiamo appreso che non rispondiamo le domande e la domanda è così buona come la tua ancora meno dobbiamo festeggiarla è una domanda bellissima che dobbiamo rifarla ogni giorno come facciamo per andare della scuola che facciamo alla scuola che sogniamo fare ognuno non solo l'insegnante anche l'estudante perché siamo tutti nella stessa scuola come farla come si fa una scuola come possiamo fare la scuola che sogniamo e anche già che già che ha silenzio anche come ciò che facciamo si rapporta con quello che sogniamo di fare noi per esempio se noi parliamo di una scuola che erra stiamo errando se noi parliamo di una scuola che è gentile stiamo sendo gentili se parliamo di una scuola che domanda stiamo facendo domanda se noi parliamo di una scuola che tra uguale ci stiamo rapportando tra tra uguale capisce sono due domande diverse una come si fa la scuola che sogniamo ma un'altra sopra noi stessi la stessa domanda siamo noi affirmando la scuola che sogniamo nella pratica che condividiamo chi vuoi prendere scusate la prossima allora intanto grazie e poi sono sollecitata dalle parole di Ada giusto io mi occupo di scuola da una vita lavoro all'indire è un istituto insomma per gli insegnanti io avevo scritto una parola poi mi sono accorta che è una parola che non rappresenta quello che volevo dire che è mostrare e così vorrei difendere un pochino anche la funzione dell'insegnante quella considerata un po' tradizionale perché io credo che se diciamo dobbiamo difendere l'infanzia è anche come un'età in cui ancora non sappiamo però qualcosa lo dobbiamo apprendere qualche conoscenza è necessaria soprattutto per affilare quelle armi perché si parlava di teologia della liberazione Paolo Freire ha alfabetizzato migliaia di persone avendo una fiducia nella conoscenza ecco io spenderei una parola in questo senso quindi mostrare significa che cosa per me due cose uno a mostrare con l'esempio ecco quindi con l'esempio cioè mostrare agli altri che si vive prima si parlava del rapporto fra vita ed educazione che si vive in una maniera che difende un'etica questa è un'altra parola importante che è citata tante volte che è l'etica del dialogo è l'etica della comprensione e però si mostra anche che cosa si mostra a chi sa meno di noi una conoscenza si mostra un mondo che è l'interlocutore no altro nella relazione fra educatore ed educando e qui appunto mi rifaccio proprio alle parole di Freire il mondo sta in mezzo e il docente ha il compito di mostrare quel mondo non di dimostrarlo perché quello sarà compito di ognuno di noi però dimostrarlo sì indicandolo e consegnando anche quasi come un dono le conoscenze che possiede a qualcuno che qualche volta deve anche ascoltare quindi ecco io diciamo difendo questa idea di scuola dove ci sia più amore più gentilezza però difendo anche quello che è il compito di un insegnante che è di consegnare ai nostri giovani una conoscenza che poi li aiuterà ad affilare quelle armi di cui avranno molto bisogno soprattutto in una società come questa ecco grazie Alessandra Anicchini Bene innanzitutto vi ringrazio per la serata interessantissima io avevo scritto molte parole sono un po' logorroica anche quando scrivo avevo scritto che chi educa partecipa con empatia e condivisione al processo di conoscenza trasmessa e ricevuta quindi ci ho trovato in queste parole molte parole che avete detto voi quindi condivisione trasmissione gentilezza che senza la gentilezza non si va da nessuna parte ma anche a me l'intervento di Ada mi ha colpito molto perché è quello più realistico perché nella scuola oggi si soffre non si impara a vivere si sembra di essere fuori dal mondo e poi voglio dire all'insegnante che trasmettere la conoscenza sì ma c'è un modo di trasmetterla oggi la scuola è un luogo di oppressione non ce lo nascondiamo i ragazzi vogliono scappare dalla scuola allora se si parla di una pedagogia degli oppressi sono oppressi anche gli studenti poi un'altra domanda che volevo fare a voi che siete più insomma dentro il pensiero di freire come educa gli oppressori come pensa freire di educare gli oppressori perché lui parla di educazione degli oppressori sono curiosa sono molto curiosa poi il fatto che sulla politica siamo d'accordo eccetera però non vorrei che rimanessero discorsi fuori dalla realtà discorsi teorici che poi non trovano corrispondizione però da qualche parte bisogna cominciare come diceva Andrea questi tempi bui ci costringono ad agire dobbiamo agire dobbiamo cominciare insieme cominciamo da qualche parte questa sera secondo me ci sono delle belle vibrazioni grazie Filomena non si dovrebbero citare i sottotesti delle conversazioni fra relatori che rischia di essere annoverato al capitolo del chiacchiericcio però insomma Luca mi pungola sempre su una serie di cose e lui mi diceva no ma qui te lo dai di te perché facendo una battuta insomma lui diceva c'è stato il metodo dei gesuiti che sapete hanno provato a educare gli oppressori non lo so se ce l'hanno sempre fatto poi ci sono arrivati poi sono arrivati quelli dopo i gesuiti che è l'opus dei che ha detto edutiamo gli oppressori a essere oppressori ancora più bravi scusate la polemica ora intra ecclesiale ma ogni tanto insomma le cose vanno detto no io pensavo a una grande esperienza scaturita da questo concetto di oppresso che poi è molto importante guardate fra l'altro da un punto di vista biblico posso che lo cito in forma assolutamente non confessionale il termine povero è un termine bellissimo anawim indica nella sua radice il truciolo di legno che è ripiegato su se stesso sentite bello il povero della Bibbia è ripiegato dall'esistenza stessa sotto il peso dell'esistenza oppresso traduce bene da tanti punti di vista forse quegli più grandi celli si ricorderanno la stagione storica del teatro dell'oppresso in cui l'oppresso era chiamato a mettere in atto la propria rappresentazione qui è una parola che andava molto di moda ma credo sia ancora abbastanza di moda la parola narrazione che insomma quando è abusata poi ce la fa diventare un po' antipatica la parola stessa però credo che lo spazio educativo deve essere veramente un ambito in cui ci si narra il più possibile sembra una cosa banale ma si ritorna sull'analisi impietose cioè signori quanto spazio di narrazione dà la scuola guardate non soltanto lo studente che si narra l'insegnante entra la dimensione di reciprocità ma sto pensando a quello che veramente secondo me è uno dei grandi problemi della scuola in questo momento cioè l'incapacità di aprirsi so per esempio alle associazioni parlo a nome dell'esperienza mia insomma dove le associazioni portano delle esperienze di vita ma non si riesce poi a farle entrare più di tanto o a volte se c'entri c'entri in una dimensione un po' così già precostituita ecco ti dicono già le cose che devi dire in qualche modo non sempre così poi va bene noi da 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 seguaci del periodo di Barbiana si ritorna su un elemento fondamentale lo spirito lo spirito critico per cui la consegna del linguaggio diceva Don Milani all'oppresso significa designare lo spazio con cui l'oppresso stesso imparerà a tempo debito a rivoltarsi e rivoltarsi fra l'altro pacificamente perché guardate il famoso discorso milaniano delle parole che mancano all'operaio che gli devo restituire in modo si possa tutelare di fronte al suo padrone e guardate parte dell'oscurità dei tempi che stiamo vivendo è che è bene continuare ad operare il termine padrone perché alcune realtà sociali vengono gestite secondo le categorie del padronato non di niente altro non sto esagerando lo sapete bene vi veramente c'è una narrazione a senso unico da tanti punti di vista però il discorso milaniano poi procede perché il valore della cultura è quando tu impari a raccontare te stesso e quindi ti riappropi di quei mezzi culturali stessi e quella guardate è la prima messa in discussione dei poteri qui appunto scusate se torno su un'altra mia comune che è Ernesto Balducci che ha dedicato guardate io penso senza esagerare un quarto della sua trattazione anche teologica ma culturale e filosofica al tema del potere perché va guardate va riaffrontata questa questione e credo che quello che abbiamo parlato di cui abbiamo parlato stasera è una deliberata felice e significativa rinuncia alle strutture del potere per entrare invece nella struttura della comunione dell'accoglienza della cura dell'attenzione eccetera 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 un sacco di termini bellissimi che rientrano tutti in questa dinamica di radicale contestazione e se mi fate adoperare un termine un po' forte di distruzione dei poteri di certo scusate la brutalità ma io me ne rendo conto consapevolmente poi uno passa una certa età e nuclea alcuni temi per esempio per quanto mi riguarda il problema è milanianamente parlando pasolianianamente parlando ancora la distruzione della cultura borghese la distruzione della cultura borghese che è la cultura del pregiudizio del privilegio conservata a tutti i costi della diffidenza dell'emarginazione eccetera 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 fatemelo dire noi ci siamo liberati di certe parole come queste parole ci facessero paura abbiamo fatto la parola fascismo infatti i fascisti sono tornati fuori prepotentemente eh anche perché ricordatevi quella cultura radicale liberal borghese citavo prima è sempre stata storicamente l'anticamera il brodo di cultura dei fascismi va bene ora poi appunto bisogna ricordarsi che borghesia diventa poi esattamente chi arma il braccio dei fascismi scusate ma non credo che a Paolo Frero sarebbe dispiaciuta un'analisi del genere che in parte è anche Gramsciano chi vuoi partecipare con le sue parole grazie benissimo buonasera a tutti grazie e Marco avevo una mezza idea di venire intervenire prima poi dopo questo intervento di Andrea sul potere è diventata un'idea intera perché una delle uno dei oltre a Freire e a Don Lorenzo Milani che è stato ampiamente trattato oggi un altro dei soggetti collettivi questa volta che mi ha fatto molto piacere essere protagonista di tutti i vostri interventi lo zapatismo l'esercito zapatista di liberazione nazionale a cui tanti anni fa ormai nel 2008 giovanissimo studente io dedicai la mia tesi della triennale alle ZLN e una delle questioni che è stata trasversale a credo più o meno tutti gli interventi è stato il tema delle domande l'importanza della domanda allora mi è venuto in mente che uno dei motti zapatisti era proprio quello del camminare pregontando camminare domandando e poi mi è venuto in mente ora con questo intervento di Andrea che poi proseguiva non si fermava il camminare pregontando ma la seconda parte era comandare obbedendo quindi anche questa nuova modalità di comunicazione anche tra oppressi e oppressori per un superamento di queste due categorie un ribaltamento di queste due categorie quindi insomma anche io avevo scritto nel bigliettino avevo scritto un qualcosa che probabilmente oggi alla fine di questo incontro dopo aver ascoltato i vostri interventi e anche alcuni di quelli dal pubblico insomma probabilmente scriverei in maniera in maniera differente ma è avevo scritto dal mondo una nuova possibilità chi educa cosa fa chi educa e questo anche perché io nella mia attività di ricerca in questi anni mi sono occupato di tante tematiche una di cui mi sono occupato molto è il tema della sostenibilità che non è solamente la sostenibilità ambientale anche se sappiamo essere urgentissima la sostenibilità è qualcosa di un po' più complesso ed è un'altra di quelle parole come dice Andrea che a furia di usarle poi dopo come dire le disinneschiamo ci vengono a noia è tutto sostenibile soprattutto quello che possiamo comprare diventa sostenibile magari pagando qualcosina in più e quando insomma anch'io in questi mesi io lavoro con Luca Tostia in questi mesi occupandoci del centro generativo Don Lorenzo Milani andando a rileggere a riparlare a riascoltare a raccogliere le testimonianze sia di chi ha vissuto direttamente quell'esperienza quelli che erano i bambini di allora che raccontano che portano avanti quell'esperienza ma anche chi è lontanissimo da quell'esperienza per questioni diciamo di tempo di geografia chi oggi in contesti molto molto diversi fa vivere però attualizza fa vivere quell'esperienza magari senza neanche saperlo senza neanche citare Don Milani o Freire perché non è necessario è molto più interessante per noi chi fa qualcosa che oggi in un contesto diverso porta avanti quei valori piuttosto che chi magari celebra il personaggio e basta e come sappiamo i centenari sono anche questo aspetto qui e nulla occupandomi di sostenibilità andando a rileggere a interrogare partendo come diceva prima Luca con delle domande sui testi quello che mi verrebbe la curiosità di sapere se potessimo interrogare davvero queste persone è la posizione che prenderebbero oggi sul tema della sostenibilità ora Freire è arrivato ha vissuto fino a anni molto più recenti a noi rispetto a Don Milani che è scomparso nel 67 quando ancora sviluppo sostenibile non era neanche un'idea diciamo però ecco questo è un aspetto che mi interesserebbe anche perché appunto sostenibilità non solo dal punto di vista ambientale lo ripeto e appunto anche prima è emerso nel primo intervento di stasera il tema della guerra in Palestina che è una delle tante guerre purtroppo non è l'unica anche se particolarmente terribile diciamo anche quella è una mancanza di sostenibilità anche quello è un passo che stiamo facendo su una strada che io credo sia tutt'altra rispetto a quello quella che saremmo chiamati a fare per riuscire a rendere sostenibile più sostenibile sufficientemente sostenibile già sarebbe buono il nostro pianeta basta vi darci grazie grazie Marco tu sai che Marco ha scritto una storia delle domande bellissime tra le tante storie due due particolarmente vicine a tu conosci le storie del suo comandante Marco si trovano facilmente una è la storia delle domande e l'altra si chiama la storia della ricerca la storia della busca della búsqueda bellissimi e mi hai fatto con la tua con il tuo rapporto di come di come si impara una esperienza o l'effetto di chi hanno condiviso una esperienza mi hai ricordato Freire qualcosa sul Freire anche mi sento nel obbligo di Luca e Andrea hanno solignato che non si legge Freire tanto in Italia come si potrebbe o che non si conosce tanto di dare alcuni elementi soli per contestualizzare e rapportarmi con un'esperienza di trovare chi ha fatto l'esperienza di alfabetizzarsi con Freire e 1963 diciamo 61 anni fa Freire ha cominciato con questa esperienza di alfabetizzazione di adulti in un piccolo posto di un stato una provincia del Brasile si chiama Angicos nella provincia del Rio Grande del Norte e Freire nel 1963 ha alfabetizzato 300 adulti in 40 ore è un'esperienza straordinaria che ha chiamato l'attenzione del ministro dell'educazione brasiliana dell'epoca Freire fu invitato a fare un plano nazionale di alfabetizzazione Brasile in 1963 aveva 80 milioni di abitanti dei quali metà erano illettrati se disse analfabeti e in questo momento qui troviamo la politica di nuovo analfabeti non votavano dunque 40 milioni solo per il fatto di essere analfabeti erano esclusi del sistema politico brasiliano Freire ha alfabetizzato Angicos che si ha scelto Angicos perché era un posto dove aveva il 75% dell'analfabetico piccolo popolo alcuni mille dunque se alfabetizzano 300 adulti che dopo erano votanti un impatto molto forte il plano nazionale di alfabetizzazione alfabetizzareva 6 milioni di adulti nel primo solo nel primo anno io ho detto prima che Brasile aveva 80 milioni dai quali 40 in alfabeto immagini il primo anno sono un anno 6 milioni sarebano alfabetizzati ma questo plano non ha ne ha incominciato perché ha avuto un colpe militare una dittatura nel 64 e allora Freire è stato il primo preso in prisione e dopo ha dovuto esiliarsi presta attenzione a questa cosa che è terribile del Brasile ma anche dell'America Latina tutta questa storia che abbiamo noi con le dittature una persona è stata in prigione e dopo ha dovuto esiliarsi per comandare un plano di alfabetizzazione per essere un educatore il prezzo di lavorare per l'alfabetizzazione del tuo popolo è la prisione e dopo è l'exilio dunque è per questo che Paolo Freire anche è molto forte per tutti che educhiamo perché Paolo Freire mostra anche un rischio una un pericolo di chi fa un'educazione compromessa o per una trasformazione sociale o politica questo è stato 1963 erano 300 adulti a poco tempo in 2021 ha fatto il centenario di Freire è il primo di queste quartette ha fatto cento anno Freire è stato diverso omaggio diversa celebrazione io ho fatto un viaggio per omennaggiare Freire cento giorni era 2021 erano nel fine della pandemia io sono professore universitario e la mia università mi aveva detto che continuerevamo fino dicembre del 2021 con le lezioni online allora io ho pensato buonissima opportunità di partire e fare pensavo io un omaggio a Freire Freiriano un omaggio che Freire le piacereva di farlo io ho fiatto cento giorno per il nordeste brasiliano la regione dove Freire ha lavorato 15.000 km facendo 4 mesi hanno stato esperienze di pedagogia della domanda freiriana io ho stato in Angicos in Angicos questo popolo del 1963 io ho trovato 15 delle 300 che ancora sono vivo perché nel 1963 avevano diciamo se avevano 20 anni adesso hanno 80 81 allora sono 15 ancora vivo e mi piacereva tantissimo dare e condividere l'esperienza di chi hanno stato in questa esperienza di alfabetizzazione nel 1963 per mostrare due rapporti così diversi con questa esperienza io prendeva anche un libro un libro che io voleva donare per queste 15 che ho dato per queste 15 studente ancora che sono campesini sono persone che lavorano in terra che hanno la stessa vita semplice Angicos non ha cambiato tanto in 60 anni un'altra storia che ha rapporto con la nostra storia politica la situazione non è così diversa adesso che era in 1963 quando io ho dato il libro sul freire a questi studanti ho avuto due reazioni che per me hanno stato così forti una triste diciamo così dolorosa è una studante che io gli ho dato il libro e ha fatto così con il corpo che non lo voleva io l'ho dato il libro e ha fatto così con il corpo io non capiva e parlando dopo lei aveva ancora la reazione perché tutti gli studanti del freire hanno dovuto o scondere nascondere o mettere fuoco a dei caderni del corso con freire perché erano ammenazzati di poter essere in prigione per avere i caderni del corso di alfabetizzazione dunque 60 anni dopo la esperienza nel corpo che riusci qualcosa che ha rapporto con freire un libro perché è pericoloso perché puoi portare in prigione ma anche un'altra un'altra reazione bellissima di un altro studente Paolo Alves io era in Angicos ho arrivato una domenica ho stato alcuni giorni ho visto Paolo Alves un lunedì era ottobro del 2021 e lui io gli ho dato il libro lui diversamente felice lo riceve e mi dice quando ti quando 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 parte quanto vai via di Angicos io ho detto era un lunedì ho detto giovedì giovedì e lui mi ha detto allora non vuoi ritornare mercoledì sera e sì come no allora ritorna io ho cercato a domandare non voleva dirmi ritorna mercoledì sera io ho ritornato mercoledì sera che è un posto davvero semplissimo tanti che la persona che era con me di Angicos mi aveva detto guarda era quando avevamo terminato tutti gli incontri mercoledì era già diciamo 8-9 di sera lei mi aveva detto no non vai adesso no è tardi perché lui è dormendo domani si sveglia alle 4 della mattina vai a lavorare io le ho promesso che devo vado 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 se non vediamo le luci forse noi arriviamo e lui era nella porta da fuori aspettando sentato con il libro aveva letto il libro e voleva parlare dal libro bellissima storia sono due rapporti così diversi con la stessa esperienza sono persone che hanno stato passato per questo processo di alfabetizzazione non hanno una vita di lettura Paolo Alves non ha libri in casa forse il primo libro che ha ricevuto dopo perché hanno stato dimenticati non hanno non hanno una vita diciamo di lettura di scritta ma guarda come l'esperienza può portare a mondi e a storia completamente diversi voleva condividere queste due allora scusate in Grecia ci sono due modi anche tre di parlare del tempo come sappiamo uno è quello dell'attimo che arriva quello invece di Aion il bambino che gioca col tempo e poi abbiamo Kronos io sono Kronos la divoratrice dei minuti e quindi però abbiamo Luca Toschi che voleva fare un intervento Mirko Dormentoni che voleva intervenire un attimo e vi inviterei se c'è qualcuno che vuole prendere la parola di farlo adesso molto brevemente perché siamo abbastanza in chiusura quindi se avete voglia di intervenire volentieri c'è qualcuno se no passo la parola avete un ordine no? puoi poi sì allora vieni grazie buonasera a tutti sono le mie uniche parole in italiano io mi chiamo Ceane è un nome talvez difficile per parlare in italiano ma la parola che ho offerto la parola inizial ha a ver con errar e errar grazie Elena errar nos due sentidos errar errar esbaliare sì no primo sentido di esbaliare imaginem che talvez assumir essa condizione do erro do esbale esbaliar se esbaliare se esbaliare una possibilità di nos tirare di un local di un lugar di superiorità moral la prima possibilità di errar come esbaliare è anche forse una possibilità di uscire di un posto di superiorità morale e talvez sia una condizione importante para pensar nessa talvez destituzione de locais de poder lugares de poder que muitas vezes nem se trata necessariamente de alguém tão um poder exercido tão longe de nós mas é um poder que muitas vezes a gente exerce na relação com os iguais allora questo è raro come esbaliare se partire dalla superiorità morale sia una possibilità di esercitare diversamente il potere non necessariamente distante da noi ma noi stessi come noi esercitiamo il potere con nostri iguali è è è una possibilità di construir una esperienza di erranza e Paolo Freire per me è un errante impossibile nel senso senso non solo per condizione di esilio a cui o narrò qui di che il Brasile si tornasse un paese molto più politizzato nel senso della organizzazione comunitaria e nel senso della importanza che è la leitura per che questo succedere. E anche un desiderio un desiderio nel caso di Paolo Freire di un Brasile impossibile di un Brasile diverso giusto un Brasile senza l'esclusione e l'ingiustizia che abita. Perfetto. E questo senso della eranza ci coloca in un locale molto differente di quello che sarebbe pensare un educatore in una relazione lineare con il suo lavoro, con il suo ofizio e anche con i sujeiti, con chi lida con chi aprende e questo ha a vero con la erranza e la construzione di entrelazamento di storia penso che questo sia un sentimento interessante per pensare io credo che a noi bisogna parlare anche molto sobre la politica allora questi due sensi insieme il sbagliarsi e l'errare danno come la possibilità di un narrarsi di entrelazarsi di narrarsi la storia di una maniera diversa non lineare un'altra maniera di narrarsi la propria storia e questo ci rapporta nuovamente alla politica di cui dovremmo parlare di più e pensare di più questa erranza e questo interlazamento ha molto a vero con politica perché se a gente for pensar nas narrativi che sono costruite a rispetto per esempio di quello che sarebbero gli stadi e le nazioni a partir di questa 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 per pensare il brasil per esempio io sono una persona che viene da regione amazônica io sono una persona amazônica questo questo ci porta a un'altra per pensare oggi per esempio nel capitalismo non da queste due idee dell'erranza è bellissimo ciò che ha detto Siane che queste due idee dell'erranza come sbagliarsi e come errare che danno possibilità di un ripensare il rapporto dei poteri e la narrativa la narrazione che abbiamo da noi stessi se anche verifica al livello della narrativa che abbiamo dal Brasile del Pise per esempio della nazione Siane ha dato il caso del Brasile è un discorso politico che narra i nostri paesi di una certa maniera e certamente all'Italia è lo stesso che al Brasile diversamente ma è una situazione parallela al Brasile c'è una narrativa offiziale diciamo di un paese egemonizzato di un paese di una minoria dominante Siane è nata all'Amazona a Manaus è una regione al Brasile esclusa non fa parte del discorso del potere anche se Siane non conosce bene la sua origine etnica ma sai che pertence a dei povos originari dal Brasile invece il Brasile egemonico niega non accetta come se non esistisse questa narrativa e questo ha tante opportunità per la sustentabilità perché certamente per esempio al capitalismo la sustentabilità è impossibile il capitalismo è antisustentabile per definizione invece se guardiassimo alle povi originari dell'Amazon c'è una sustentabilità in pratica nella vita nel mondo solo i povi originari non possono vivere se non è sustentabilmente perché il mondo sono il mondo fanno parte del mondo non è il mondo non è un'altra cosa dunque non curare del mondo è impossibile non allora come queste queste narrativa potrebbero aiutare a pensare teme come la sustentabilità per esempio grazie grazie sì scusa Luca mi sembra che deve venire qui sì ma buonasera molto davvero brevemente perché come presidente del quartiere 4 volevo solo ringraziarvi ringraziare ora siamo rimasti pochi ma comunque mi faceva molto piacere e mi sento in dovere di ringraziarvi avendo anche partecipato in questa ultima ora a questo incontro perché mi sembra che questo sia un luogo molto giusto per quello che avete fatto stasera questo è uno spazio pubblico di comunità che ha molto a che fare con le cose che ci siamo detti la biblioteca Nova Isolotto per noi è diventato sempre più una parte un motore della nostra comunità educante o almeno quello che cerca di contribuire a fare perché qui c'è ci sono tante occasioni di ascolto di incontro di confronto spesso anche proposte portate dal basso dalle associazioni del territorio e non solo di questo quartiere ci sono esperienze gestite dai volontari come quelle di Bibliomondo che fanno alfabetizzazione per persone che vengono da altri paesi del mondo e che sono nuovi cittadini fiorentini ci sono i ragazzi che fanno l'autogestione giù dello spazio dedicato agli studenti e che per esempio quest'estate hanno proposto degli incontri sulla sostenibilità o un cineforum su una serie di temi e ci sono tanti altri gruppi ma soprattutto è uno spazio dove la comunità funziona lavora e credo che vada almeno un po' nella direzione di cui stiamo parlando del farsi domande dell'errare anche e quindi sono davvero contento molto che ci sia stata questa vostra presenza qui oggi e anzi ci auguro che questo possiamo portarlo avanti anche nel futuro prossimo grazie Elena cosa facciamo per ultimo il più bambino di tutti liberiamoci liberiamoci da questa dunque cosa che mi sembrava opportuno riprendere mentre prendevo nota e mi rileggerò gli appunti delle tante cose che sono state dette stasera mi domandavo come un incontro come questo faccia del bene a tutti guardavo i volti le espressioni era un momento in cui uno ritrovava le ragioni di un stato d'animo che a volte vive in maniera solitaria e invece stasera in questo cerchio di sedie affollate ora mezzo vuote si ricostruiva una comunità importante cioè uno esce un po' dalla solitudine dei suoi desideri dei suoi bisogni delle sue difficoltà e parlando di Freire parlando del libro di Walter si è ricreata una comunità ecco ora io faccio scusate proprio due minuti di considerazione professionale io sono prima di tutto un professionista della comunicazione e credo che l'università mi abbia amato proprio per questa competenza più o meno alta tecnica va bene allora io credo che la cosa bellissima che è venuto fuori stasera non sia soltanto un clima ma un'indicazione molto precisa sulla politica da seguire vedete noi si sta morendo di metodologismo dicevo prima no? la comunicazione qualunque sia il contenuto il problema è come comunicarlo ma siamo sicuri stasera erano i contenuti che hanno creato una comunità dove sono i contenuti? diceva i contenuti quali? qualcuno ci ha ricordato la scuola dovrebbe darci i contenuti i contenuti che ci interessano non quello che interessano ad altri se io studio fisica se io studio linguaggio se io studio letteratura se io studio storia io voglio trovare nelle ore della mia vita che io dedico allo studio e vorrei che l'insegnante facesse la stessa cosa le ore che dedica all'insegnamento dovrebbe domandarsi perché fa l'insegnante a cosa gli serve essere un insegnante come fare l'insegnante arricchisce la sua personale individuale storia è che noi abbiamo l'idea dei contenuti come un pacchetto che va dal professore allo studente i più democratici dicono no anche dallo studente al professore no la conoscenza si genera attraverso l'incontro delle diversità guardate riflettete un attimo si parla di rivoluzioni ma qual è la più grande rivoluzione degli ultimi millenni dopo la scoperta dell'agricoltura che ha creato le città che ha creato le specializzazioni qual è la grande rivoluzione che fa paura a tutti che ha vittime fisiche ma anche vittime culturali mentali immateriali la rivoluzione di genere te ci puoi girare intorno quanto vuoi ma quello che sta succedendo negli ultimi decenni fa sì che la parte femminile trovi un potere contrattuale che prima non aveva e questo era qualche problema al potere anche femminile perché il potere è maschile ma è anche femminile tant'è vero che le donne potenti ai vari livelli sociali adottano una comunicazione e un modello maschile allora io mi domandavo pensiamo tecnicamente a una questione fondamentale la rivoluzione all'interno della medicina negli ultimi 10-15 anni che va dalle malattie più normali e quotidiane fino all'area oncologica qual è la grande rivoluzione nel 1991 apparve nella più prestigiosa rivista inglese di medicina un articolo che era yellow syndrome la sindrome di yellow che era ve lo ricordate c'è un famoso film Barbara Streisand che lei deve vestirsi da uomo per andare a studiare nella scuola ebraica perché se no non lo ammettevano e nel 91 una donna che era diventata la direttrice dell'istituto nazionale che raccoglieva i principali istituti di ricerca biomedica negli Stati Uniti fece una scoperta incredibile e cioè che cosa che le donne infartuate o a rischio di infarto venivano curate come se fossero uomini ecco perché morivano molte più donne degli uomini cioè si cominciò a capire che la medicina di genere era fondamentale a cominciare dall'industria farmaceutica che continuava a fare farmaci al maschile non al femminile non solo ma si scoprì che negli ambienti della ricerca le cavie i topini per intendi si erano rigorosamente maschili perché la motivazione c'era perché i topini femminili avevano le tempeste ormonali ma poi si scoprì che le tempeste ormonali ce le avevano anche i topini maschili che cosa ci insegna nella logica di Freire a mio parere una cosa del genere che noi abbiamo un potere immenso una volta lo chiamavano il potere della cultura popolare l'hanno voluta distruggere la cultura popolare ma ora vedete nell'ambito della ricerca non a caso il femminile sta dominando l'area biomedica nel caso della ricerca si sta scoprendo che abbiamo bisogno di diversità per vincere le malattie perché non c'è la malattia c'è il malato la malata c'è il malato giovane e il malato meno giovane c'è il malato Marcos Bardella lo ricordava prima che vive in un ecosistema economico culturale materiale immateriale che condiziona profondamente la risposta alla malattia allora un altro passaggio ho finito era per dire come noi abbiamo la risposta e lì la guardiamo ma non la riconosciamo però secondo me stasera veniva fuori le multinazionali come sono generose ora l'intelligenza artificiale noi studiamo l'intelligenza artificiale da 40 anni ora se ne parla perché perché è diventato un prodotto perché l'intelligenza artificiale per gente come me che viene da laboratori informatici sa benissimo l'intelligenza artificiale già negli anni 70 e 80 c'era e che veniva usata in ambienti esclusivi ora si fa un prodotto esattamente come questo oggetto questo oggetto non è stato inventato negli anni 90 già negli anni 60 c'era a livello militare lo usavano normalmente poi si è fatto un prodotto che cosa ci chiedono le big tech le grandi compagnie cosa ci chiedono la nostra vita quotidiana la studiano attentamente la studiano attraverso i social la studiano nelle forme più diverse se ti fa le analisi come ti fa le analisi non c'è nulla di male non vorrei ora fare il solito discorso viviamo nella società del controllo è sempre stata una società del controllo se voi andate a studiare la società egiziana era una società del controllo i preti allora come controllavano controllavano la scrittura e la lettura tanto per cominciare i Gesù non ne parliamo visto che io vengo da quella cultura lì se non è un altro gol bene e perché e noi regaliamo tutto lui è giovanissimo regala un sacco di informazioni lei lui il presidente lei lei tutti regaliamo e forse dovremmo regalare meno forse il potere la classe egemonica che c'è come che usa sistemi di automazione Marx lo spiegò benissimo la rivoluzione industriale la rivoluzione industriale nel settecento e nell'ottocento apparentemente ti regalava uno status sociale più economico e migliore e in parte anche lo era però condizionava il cervello allora cos'è che ci chiedono cos'è che noi regaliamo noi regaliamo la nostra vita normale perché lassù la vita normale non la conoscono ma per controllare i flussi economici e politici hanno bisogno di informazioni ecco allora io penso che Freire quando va in quel posto che tu ricordavi e in trenta ore alfabetizza trecento persone ma noi abbiamo tanta alfabetizzazione è che abbiamo perso la consapevolezza del potere che abbiamo che è la normalità la nostra vita quotidiana lassù non la conoscono e questo lassù ci sono persone per bene e persone meno per bene ora le persone per bene forse hanno più responsabilità diciamo i buoni hanno più responsabilità rispetto a cattivi perché si pensava che andando lassù non si dimenticassero che la loro forza eravamo noi se ne sono dimenticati però questo ho finito ma pensate che momento stupendo stiamo vivendo basta metodologismi e recuperiamo il valore dei nostri contenuti perché se le malattie le si vincono distinguendo Maria da Mario e Mario da Carlo se quella soggettività la diversità è un valore economico ti puoi immaginare il valore politico e qui mi venne in mente un libro di Boff dove parlavo appunto del potere rivoluzionario della diversità no ti ricordi scusate però volevo dirlo perché a un certo punto c'era come dire sì 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 che si fa ora c'è l'imbarazzo e la sceglia siamo costretti a fare i conti con la realtà diciamo dobbiamo chiudere credete grazie di essere venuti grazie anche a coloro che sono venuti e non ci sono più e a presto diciamo grazie Walter di essere stato qui grazie grazie